Abbiamo ascoltato, chiaramente per chi ci ha seguito, nella puntata di ieri, questa preghiera che ha messo fuori la profondità d'animo di una donna felice ma sconosciuta, Giovanna Francesca De Filippis, almeno sconosciuta per noi, proprio nel solco di quello che ci stiamo dicendo in queste tappe di questo nostro cammino attorno nella felicità, cioè che la felicità non è soltanto nelle persone, nei personaggi, nei santi che conosciamo ma anche nella gente semplice, nella gente sconosciuta, nella gente che vive una vita ordinaria ma la vive nell'amore, la vive donandosi e la vive, come è in questo caso, lasciandosi interpellare da Dio, lasciandosi contagiare dalla felicità che Dio dona. E volevo cogliere, dopo la lettura di ieri, qualche piccola riflessione che ho trovato in queste parole e che mi hanno portato a riflettere. Quando la De Filippis dice che sono felice perché sono amato, perché un raggio di luce mi sveglia al mattino. Quante volte ci svegliamo al mattino con questo raggio di luce? Per chi si sveglia al mattino presto, come me, vive tutti i giorni il passaggio dalle tenebre alla luce, soprattutto quando ci svegliamo durante il tempo, per esempio, invernale o autunnale, quando il sole sorge un po' più tardi. Ed è bello vedere quel passaggio dalle tenebre alla luce, quel raggio di sole che ti sveglia al mattino. Eppure devo confessarvi che molte volte è una vita che mi alzo presto ma il più delle volte non avevo pensato a questo raggio di luce che mi sveglia. Ecco che cosa vuol dire essere anche allenati, avere un cuore aperto a captare, capace di captare i segni della felicità nelle piccole cose, in quello che per noi riteniamo scontato, riteniamo, come dire, quasi normale, abitudinario. No, la felicità è nella capacità di stupirsi. Finiremo di vivere quando non avremo più questa capacità di stupirci, sì. E molte volte noi viviamo ma sopravviviamo di fatti perché ci manca questa capacità di lasciarci stupire. Lo stupore, ne abbiamo parlato in precedenza, lo stupore è la chiave che apre il cuore alla felicità, lo stupore. Lo stupore appunto di sentire sulla pelle questo raggio di sole che mi viene, che mi viene a svegliare. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!